Non abbiamo un piano, i motorhead non hanno mai un piano, la vita non è sicura, il tuo lavoro non è sicuro, quando esci di casa non è sicuro, ecco perché bisogna godersi il momento. Mi sono sempre piaciute le belle uniformi e nella storia quelli vestiti meglio sono sempre stati cattivi, Napoleone, i confederati e tanti altri. La morte è il modo col quale Dio ti fa capire che è il momento di darti una calmata. E con queste sue frasi vi ricordiamo che il 28 dicembre 2015 venne a mancare l'hemi chilmister, con la sua morte si sanci lo scioglimento di Mothrad.